Stiamo brigando e tu lo sai battire in mani Allora ragazzi ci servono tre persone che vogliono partecipare al gioco Chi non gioca guarda Guarda di là C'è la telecamera di là Ragazzi ma che fatica State calmi Siete di Alessandria per me Ti vedete Allora ragazzi capisco che il Dino sta già andando proprio a fiumi Però diamoci la calmata Mi sono te coglione Chi è che gira la ruota uscirà un gioco e in base a quello che uscirà giocheremo insieme È uscito il punto di erogativo Siccome non l'abbiamo ancora fatto faremo reazione a catenaccio Avete mai visto reazione a catena? Sì Ok il gioco è fina reazione a catena Chi siamo? Vai Via Sì Cura Fa Medica Un Chito Il Culo Medico Conoscopia Ok è un punto l'abbiamo fatto Seconda parola Ok via Parco Errore nostro Terza e ultima parola Questa è difficile Come Modere Orgasmo Esatto Esatto Non so se ne abbiamo detto grigi merda Ma comunque hanno vinto La nostra bottiglia di vino Allora per la prima volta un casalese Si inchina un alessandrino Vorrei proprio Va bene Allora gli offriremo un bicchiere di vino Gli vogliamo bene E vi chiediamo un motto Per la festa del Quello che vuoi Se è un bianco tu lo sai mattina e vai Se è un bianco tu lo sai mattina e vai Se è un bianco tu lo sai mattina e vai